Musica 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 Benvenuti in questo nuovo video Oggi farò un video del tour della mia stanza E ragazzi partiamo All'entrata dove possiamo Notare che c'è una zembra diventina Poi abbiamo La nintendo switch La sotto Abbiamo degli occhiali e un porto occhiali E Un joystick della switch Poi abbiamo Il telecomando dell'amazon file stick Che sarebbe questo Poi abbiamo scotch a caso Caricatori Vabbè un pochino di macello Tutto sto macello che c'è qua Tutto Tutto sto macello E raga comunque Se vi domandate perché lì c'è la fotocamera E perché è scarica Perciò non posso usarla E poi raga Qui abbiamo un pochino di macello Con i fili Il mio iphone E poi qui Come vedete c'è un filo Che si va a collegare Qui Cosa sarà Scoprirete dopo Poi raga Vabbè Sempre macello Il mio comodino Una luce a led Che uso per fare i video Perché si può staccare da qua Certo Una specie di molletta Si può staccare Ok raga Ora E' qui Che ci sarà la sorpresa Tipo Semi sorpresa Comunque come vedete Vedere la Lì c'è Spider-Man No Potrebbe qua Dov'è? Qua Questo qua è un personaggio Che io c'avevo da piccolo E ancora ce l'ho Non so perché Però ce l'ho E poi vabbè raga Mi sono scopri per vedere Il nuovo arrivato Cioè il condizionatore Lui E poi raga Infine In maniera bellissima Postazione Che noi Andandoci a sede Possiamo notare Qui il nostro Bel mouse Che non è in questo momento Neanche collegato Dobbiamo collegare Lo colleghiamo Al posto di qualche cosa Tipo questo E come potete notare Lui si illumina Perché è un big mouse È un mouse buono Discreto anzi E raga Poi qui abbiamo La luce Che uso per studiare Ogni tanto Lo uso pure Per fare video Anche se Ormai non lo uso Più di tanto E poi come sorpresa Ultima cosa Troviamo questo telecomandino Questo telecomandino Che Ha delle luci Cioè dei colori Se non è che Se non è che il chiamo suon Lui si accende E Modestamente Raga Ha un effetto Bellissimo Ok che c'è macello Però Si può sistemare Tutto il macello E c'è un effetto Tipo wow Comunque raga Queste sono Nelle striscette A led Che ho comprato Su wish Tipo a pochissimi soldi Però Vabbè Sono belle Ciao raga Un attimo raga Accendo la luce Usiamo Facciamo una cosa Usiamo La luce a led Tac Ciao raga